salve a tutti bentornati sul canale oggi secondo video in collaborazione con elettra e la ragazza col codino oggi vi proponiamo ovviamente una seconda idea per pasqua sempre con materiali riciclati che comunque sono a basso posto costo contenuto materiali che possiamo trovare anche nelle nostre case benissimo questa è la mia proposta ve la faccio sbirciare ovviamente poi trovate il tutto nel video ho voluto giocare sullo stile un po più pop mi raccomando iscrivetevi al canale se vi piace il video spolliciate in su commentate per qualsiasi informazione appunto o magari potuto mettere nell'info box mi raccomando seguite il video andate a sforciare anche negli altri dei canali e fatemi sapere cosa ne pensate un bacio piccolo appunto prossimamente farò anche un video sui capelli perché mi è stato chiesto più volte di fare un video sui capelli sono un bel po lunghi e visto che mi è stato chiesto lo farò arriverà con calma dopo pasqua lo farò giuro 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 che vi farò questo ben detto video ora però godetevi il video e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate ciao 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 ciao